Evitato l'imminente blocco dei mezzi diesel Euro 5 in Piemonte, il decreto approvato oggi dal Consiglio dei Ministri impegna le regioni del Bacino Padano, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto ad aggiornare i propri piani per la qualità dell'aria, permettendo di valorizzare le tante misure ambientali messe in campo nel bienio 2021-2023 alternative al blocco dei veicoli. Ne consegue che le auto e i mezzi diesel Euro 5 potranno continuare a circolare in Piemonte, così come nelle altre regioni del Bacino Padano, fino all'autunno 2025. Siamo riconoscenti al ministro Pichetto che ha coordinato il complesso lavoro tecnico che ha portato a questo decreto e all'intero governo, a cominciare dai ministri Salvini e Fitto, per l'intervento immediato a supporto di famiglie e imprese del Piemonte, dichiara il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio. Il lavoro di squadra ha consentito di raggiungere questo risultato perché da sola la regione non aveva il potere di agire. Aggiunge Cirio, abbiamo triplicato le risorse previste per il miglioramento della qualità dell'aria e a breve lanceremo un altro pacchetto di misure per sostenere le famiglie nell'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale e aiutare le imprese a sostituire i mezzi più inquinanti. L'assessore all'ambiente Matteo Marnati illustra i provvedimenti già messi in campo per ridurre le emissioni inquinanti. Abbiamo già arrottamato 704 autobus del trasporto pubblico con nuovi mezzi a basse emissioni e altre 749 saranno sostituiti entro il 2024, spiega, e abbiamo prorogato gli incentivi regionali per la sostituzione di stufe e impianti di riscaldamento inquinanti, su cui abbiamo investito complessivamente 9 milioni di euro. A questo si aggiungono gli interventi del super bonus 110% che contribuiscono alla riduzione delle emissioni generate dagli edifici. Ora, come richiesto dal governo, siamo pronti per rivedere il piano tutela dell'aria del 2019 per integrarlo con misure alternative e più efficaci al blocco dei diesel Euro 5.